Sport Days non si ferma. L'evento organizzato dal CONI Avellino seguirà le norme sulla sicurezza e si terrà nel comune di Mercogliano sviluppando un piano da remoto per tenere unite associazioni, federazioni e tutto lo sport irpino. Troppo spesso si parla a pagine intere di situazioni arcaiche. Credo che sia arrivato anche il momento di comprendere come bisogna riprendere le attività sportive per le cosiddette attività minori. Fare rete con l'associazionismo, fare rete con le istituzioni, con le società sportive naturalmente e poi creare una sintesi tra tutte queste componenti in modo tale che creiamo una società migliore. Al fianco del delegato provinciale Giuseppe Saviano, il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, ha annunciato un accordo in dirittura d'arrivo con l'ente di Palazzo Santa Lucia. Proprio in questi giorni come CONI, e lo dico oggi per la prima volta, abbiamo raggiunto finalmente un accordo con la regione dove tutte le attrezzature delle universiadi verranno date in questi giorni al CONI perché le distribuiscono alle federazioni. Perché è importante non solo avere strutture adeguate ma anche strutture funzionali dove si possano organizzare manifestazioni nazionali e internazionali. Grazie a tutti.